Bella guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi, negozio oggetti, supporta un creatore, con il codice FORTU, accettate, da ora ogni acquisto che farete, mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti. Altrimenti avrei detto scusa al momento, boh, sinceramente boh, cavolo strano, pure me ne accorgo. Ah, vabbè, no allora raga, ok ok, ho capito. Capito? Cioè, porco, parola, oppure dio, parola, cioè capite, non il, di questo dio, cioè, assolutamente, mi spiace se qualcuno si è sentito offeso o l'ha pensato in quel modo, scusatemi, non era quella la mia intenzione. Semplicemente ero un attimo distratto, non ci ho manco fatto caso, veramente, raga, scusate. Mentre gioco poi non sto attento a ciò che dico, quindi è... Ok. Scusate comunque, raga, veramente, non ci ho fatto caso, è mia colpa. Nel frattempo l'hai detta? No ragazzi, no, non dite stronzate, non ho detto porco e subito dopo la parola. Ho dato un po' di spazio per intendere un'altra parola, quindi ora non dite stronzate, gentile, ma perché questo coso fa 60 in edd? Io non capisco, cioè, pure dovrebbe essere pompaio al nonno, eh, non è che... Non è dell'arma più stupida del gioco, vorrei dire. Vabbè, però poca, vabbè, mo mi parte. Vabbè, ok, vabbè, sono morto, raga, semplice, cioè, vorrei dire, vabbè, ok, io non faccio domande, accetto in silenzio. Questo tipo poteva eliminarmi con una facilità veramente ridicola. Bruma, se gli ho scaffo, no ragazzi, semplicissimo controller, utilizzo solo i control freak. Non altro. Se li potete comprare, in descrizione, c'è il link di affidazione di Amazon. Eh, che culo. Ah, quanto è stato? 200, 220, non ci ho manco fatto caso, bello, vero? Da che po' di gente ci sta? Stay focused, stay focused. Ok. Era tutto calcolato, ovviamente. Non stavo morendo. Comunque, mi raccomando, iscrivetevi al canale senza essere già iscritti e abbiate la campanellina, ragazzi, specialmente se siete nuovi. Non ho jump, però ok. Perché questi bug? Che palle? Perché non ho? Usa il falò. Ci conviene, eh? Quanti ne ho? Uno? No, non so, magari vediamo nella chest lì. Ho visto un tac, ma non ci interessa. Allora, allora, vediamo, vediamo. Chi ci sta, chi ci sta? Ho sentito gente fightare. Venite, papà, venite. Non spaventatevi, tanto perdo, tanto sono scarso. Oddio, se fightano nel campo antigravitazionale è una rottura dei Hones. Quindi vorrei evitare se è possibile. Ok, quello è entrato dentro il lift, quindi non c'è sta più. Sperando che non torni da me. Perché altrimenti si via da ground. E non ho troppi, troppi materiali. Ma voglio, se ci riesco, ok. A un certo punto è andato pure fuori dal mio campo visivo. Cioè, il gioco non lo caricava più per quanto ero lontano, quindi infatti niente, ci ho provato. Mi servono un po' più di materiali. In realtà ci vorrebbe un robot con il quale prenderli. Però vabbè. Perché l'ultima live serale? Perché poi vado in vacanza per una settimana. Vi ho lasciato comunque già dei video fatti, come il video della sensibilità, che so che lo levate in tanti. E la madonna che... Questo è proprio aimbot. A me io ho fatto paura, raga. Questo però ci ho levato 88 praticamente. Guardate come spara quel cecchino. Eh raga, ma c'ho l'ainbot. Ma che è? È inquietante. Vai, vai, sali, sali. Ma che cazzo è stato? Io con sto tipo non ci voglio più giocare, mamma. Ma stiamo scherzando? Ma all'improvviso, così. Ma si è trasformato. Cioè, non lo so. È diventato un Megazord. Ma da solo, cioè. Ha fatto tutto lui. Cioè, si è trasformato in un Megazord, raga. Ma stiamo scherzando. Eh, vabbè, muovendo un guolo, giustamente. Guarda, non avevo alcun dubbio. Eh, lo so. Io ne vivo pure a sinistra. È quello, cioè. Cioè, abbiamo un robot. Guarda, guarda che cazzo è un robot di fianco. Guarda. Invece di allearci, no. No. Ma cosa stai facendo? Vabbè, muori. Ok, uno versus uno. E uno versus uno. Ci sto. Ci sto. Va bene, va bene. Il robot ora gli esplode, così. Intanto gli si sponda tutto. Ok, easy. Scappace l'M. Sei su, ah, sì. Ma dove è sponato? Infatti, raga, io non ho capito. La mia preoccupazione, il mio stupore è stato dovuto, cioè, è dovuto al fatto che è sponato un robot. Cioè, capite che è sponato? Non c'era, non c'era. Veramente è sponato. Ma che è il cheater, quel tipo? Ah, buonasera. C'è un robot? Ok. Beh, signor robot, guardi, io ho due jump, quindi volendo posso fare la capata di prova a eliminarti. In su. So che tu stai lì. Allora, se mi vede, finché sto sulla zipline, non mi può colpire. Perché quei razzi, cioè, sono troppo veloce. Ti prego, fammi partire. Affa mer! Affa mer! Non fotti, ho fatto tutto gamer! Devo fare 90, devo fare 90. Mi sono bloccato con il mio stesso 90. Ah, quanto è bello questa cosa. Devo dire la verità, col combat del kit è un mollo. Ah, non capisco dove sono. Oh, il pompale è il nonno, ragazzi. Se ridiamo e scherziamo va sempre la sua sporca figura. Ci avviciniamo ai 59.000. Si spera, ragazzi, si spera. Se la gente non si iscrive, non ci arriviamo. Se la gente si iscrive, ci arriviamo. Semplice. Questo sta ballando marshmallow. Io, madonna, ti ti aro. Mi sto sentendo in colpa, non voglio parlare. Gli stream sniper buoni vanno risparmiati. Frate, ma io questo non avevo manco capito perché era stream sniper. Ma non credo. Non credo fosse stream sniper. Ho i miei dubbi che fosse stream sniper. Vabbè, tu sei morto. Non mi potrai mai colpire. Non ce l'ha... Non la puoi fare. Ragazzi, abbiamo trovato il modo per counterare i robot. La zipline. La zipline è l'arma più forte per counterare un robot. Vai, vai. Vai, vai. Sì, sì, sì. Bravo, bravo. Complimenti, complimenti, complimenti. A parte che mi faceva danno al robot, a un robot che non c'era, tra l'altro. La cosa è abbastanza inquietante. Cioè, il robot si era distrutto. Sparavo, mi ha fatto un 30 di danno a un veicolo. Non si sa cos'era. Nessuno lo sa. Nessuno lo vuole sapere. Vabbè, arato. Questo pure. Va bene. Volendo possiamo fare 17 bombe. Sono tre nemici lì. Se mi riesco a fare tre... Ok, vabbè. Si scende a 16 bombe, regà. Bello. Oh Cristo. Io ti odio. Ok. Tu stai boxato. Sinceramente non so come eliminarti. Eh vabbè. Non sei stupido. Invece sì. Penso che potrebbe essere stato più difficile. Ok. Eh, infatti, è difficilissimo tenendo conto del fatto che ora sono morto. Qualcuno mi spiega perché questo tizio è immune ai proiettili. Allora, che sto curioso di questa cosa, eh. Safe. Lo so che sei velocissima e sei anche un po' in fame, però... Dammi un secondo, ok. Allora, sulla zip line così mi faccio pure azzecca a terra. Nel caso non è in safe. Ok. La safe più intelligente è qui, credo. Come ci sto arrivando non è intelligente. Vabbè, ma quello ormai credo sia... Sia chiaro a tutti. Probabile che qualcuno sia lì dentro. Probabile. Non... Non deciso. No. Raga, ho sentito costruire, dai. Sono nemici che non si fanno vedere. Eh, infatti questo qui è uscito. Vabbè, sì, frate, però, voglio dire, ho tutto il bene. Provaci a non... Ha sparato col pompa, l'infame. Potreste modificarmi, grazie. Come ogni persona normale. No, questo si alza. Questo si alza probabilmente perché io... Ho rotto l'ess. Però anche lui l'ha rotto a me. Ok, abbiamo capito dov'è l'altro. Lo teniamo in zona nord-west. Ah, sono morto. Non so perché l'ho messo così male, sono certo. Posso fare 15 bombe, raga. Se non faccio altre stronzate... Se Dio me la manda buona. Perché mi ha schifo di vita. Perché sono così deficiente? Questo era bravo. Ma veramente, eh? Ho recuperato questa cosa? Va bene. Va bene. GG, let's fucking go, babe. Let's fucking go. Non so come l'ho vinta. Veramente colpo di fortuna quel led. 18 ma GG. Semplicemente GG, non dico altro. Buono così.